Zombie Apocalypse My Home My Destiny Anticipazioni di venerdì 22 dicembre 2023 A casa di Barish fa il suo ingresso un nuovo personaggio. È subito chiaro che si tratta di un vecchio amico di Alirisa, infatti, è proprio l'uomo che lo zio di Barish ha chiamato dopo gli attentati a casa sua e di Zeynep. Il suo nome è Sadi, un uomo dal carattere allegro e scansonato, che abbraccia tutti, e inizia a sfoderare battute. Tutti si riuniscono per la cena, scambiandosi racconti del passato, e scatenando risate fragorose. Sadi, accompagnato da diversi uomini, non spiega dettagliatamente la sua occupazione, ma il fatto che sia stato chiamato dopo gli episodi di violenza, fa presagire che possa offrire protezione alla famiglia, essendo forse anche lui coinvolto in affari loschi. Nel frattempo, Meto richiama i suoi uomini, e insieme organizzano qualcosa di ancora sconosciuto. Terminata la cena, Sadi e Alirisa informano tutti che andranno da Medi, per capire la situazione, e pianificare una strategia difensiva. Anche Zeynep vuole unirsi a loro, soprattutto per riportare la piccola Mujgana a Benal. Benal e Baris vorrebbero seguirli, ma dopo varie obiezioni, solo Zeynep, Alirisa, e Sadi, si dirigono da Medi. Prima di partire, Sadi, uscendo di casa per parlare con i suoi uomini, ordina loro di armarsi e sorvegliare la casa, per prevenire un possibile attacco. Zeynep contatta Nu per ottenere l'indirizzo della nuova casa di Medi. A casa, Gemmile è ancora all'oscuro della situazione delle sparatorie, e crede che Zeynep voglia solo riportare a casa Mujgana. Infatti, Gemmile prega Medi di accettare qualsiasi condizione imposta da Benal, al fine di riunire madre e figlia. A casa di Zeynep, soprattutto Nermin e Sakine sono nervose, poiché i problemi di Medi influiscono pesantemente nelle loro vite. Baris cerca di dare loro speranza, confidando che prima o poi i problemi si risolveranno. Sakine approfitta dell'occasione per benedire l'unione tra Baris e Zeynep, l'unico punto positivo in questo periodo difficile. Baris le esprime gratitudine e promette che, una volta sposati, lui e Zeynep la accoglieranno nella loro casa. Finalmente, le paure di Sakine sono dissolte dalla promessa tanto attesa da Baris. Zeynep, Sadi, e Alirisa, arrivano a casa di Medi. Gemmile, ovviamente, non capisce perché Benal non sia presente, ma solo Zeynep e gli altri due uomini. Dopo i convenevoli iniziali, gestiti soprattutto da Sadi, sempre simpatico ed affabile, Alirisa arriva al punto. Devono organizzarsi per studiare e concordare una difesa collettiva, e soprattutto, Medi deve spiegare loro il problema, per risolverlo insieme. Come ci si può aspettare dal carattere orgoglioso di Medi? Rifiuta l'aiuto molto gentilmente, accettando però una condizione. Gemmile e Mujgan potranno andare a stare a casa di Baris, insieme a Zeynep e Benal. Gemmile ancora non comprende appieno la situazione, ed è Zeynep a spiegarle tutto. La sua casa e quella di Baris sono state attaccate da Meto e dai suoi uomini per ordine di Gengis. Gemmile rimane sconvolta, e rifiuta categoricamente di lasciare solo il fratello. Tuttavia, sia Nu che Medi la convincono ad andare con Zeynep, soprattutto per il bene della piccola Mujgan. Quanto a Nu, egli rimarrà al fianco di Medi, affrontando insieme ogni sfida che si presenti. Alirisa, Zeynep, e Gemmile, insieme alla piccola Mujgan, salgono in macchina per fare ritorno a casa di Baris, rifiutando la scorta offerta da Sadi, per evitare di attirare troppa attenzione da possibili aggressori. Sadi, invece, rimane a casa di Medi nel tentativo di convincerlo ad accettare il suo aiuto. Rimasti soli, Sadi trova l'occasione di confidarsi con Medi, narrando la sua storia di vita, dalla tragica morte di sua madre per mano del padre, un uomo pericoloso e un pessimo genitore. Lo racconta per dimostrare come gli errori dei padri spesso si riflettano sui figli, sia in termini di difetti che di virtù. Ad esempio, Sadi sa che il padre di Medi era considerato un grande uomo, sempre al servizio della comunità. Ma pensa che proprio questa figura così importante nella vita di Medi, lo abbia messo in soggezione, portandolo a cercare costantemente di dimostrarsi alla sua altezza, adottando comportamenti che volevano essere protettivi, ma che alla fine si sono rivelati controllanti. Sadi, tuttavia, ha anche una visione positiva del destino tracciato dai padri. Infatti, se entrambi non avessero avuto quel tipo di padri, non si sarebbero mai incontrati, e non avrebbero potuto unirsi per affrontare la situazione di pericolo attuale. Nel frattempo, Alirisa, Zeynep, Gemile, e la bambina, sono in viaggio in macchina per raggiungere la casa di Barish. A un certo punto, vengono circondati da diverse auto, da cui scendono numerosi uomini armati, che puntano le pistole contro di loro. Fa il suo ingresso anche Meto, il capo dell'agguato. Alirisa cerca di respingerli, mostrandosi sprezzante del pericolo, e determinato ad umiliarli. Tuttavia, la situazione precipita rapidamente quando una pistola viene puntata alla testa di Alirisa, e Meto costringe Zeynep ad uscire dalla macchina con Mujgan. Zeynep comprende immediatamente di essere coinvolta in un rapimento, e prega Meto di prendere solo lei, lasciando la piccola Mujgan indenne. Ma l'intenzione di Meto è rapirle entrambe. Gemile e Alirisa sono impotenti, e Zeynep, con Mujgan tra le braccia, viene costretta a salire in macchina con Meto e altri uomini. Il rapimento ha avuto successo, e sotto gli occhi sconvolti di Gemile e Alirisa, Zeynep e la piccola vengono portati via. Immediatamente, Gemile, in lacrime, sconvolta, avvisa Medi, mentre Alirisa chiama Barish per informarlo di tutto. Medi, furioso e sconvolto, ha seriamente paura che possa succedere qualcosa a sua figlia e a Zeynep. Barish si precipita dallo zio per assicurarsi che lui e Gemile stiano bene, riportandoli a casa con sé. Zeynep arriva in una casa, dove viene rinchiusa in una stanza con Mujgan. A casa di Barish sono tutti sconvolti ed agitati. Benal è in preda al panico, hanno preso sua figlia e lei è impotente. Sakine e Nermin sono sconvolte ed abbattute, ancora una volta hanno rapito la loro Zeynep. Medi non sa cosa fare, si maledice per la situazione in cui ha messo se stesso e la sua famiglia, e non può fare altro che accettare l'aiuto di Sadi. Quest'ultimo si offre di risolvere il problema con Gengis per conto di Medi. Salderà il debito che Medi ha con l'uomo, e se ciò non bastasse, sarà pronto ad affrontare Meto e i suoi uomini. L'importante è che Medi resti a casa, e non prenda iniziative senza avvisare Sadi. Sadi affida a noi il compito di controllare Medi, e di evitare che possa aggravare la situazione. Appena Sadi esce di casa, Medi chiama Meto, e gli urla contro il suo odio con tutta la forza che ha. Promette di trovarlo e ucciderlo per aver preso sua figlia e Zeynep. Meto sembra tranquillo, ride sonoramente alle minacce di Medi, prendendolo anche in giro. Medi vuole solo sapere dove nasconda sua figlia e Zeynep, e urlando cerca di farselo dire. Meto intima ancora una volta a Medi che, finché non restituirà la somma richiesta da Gengis, i guai non finiranno mai. Gli dà quindi un'altra scadenza. Entro il giorno successivo, Medi dovrà consegnargli i soldi che Gengis ha richiesto. Medi è sconvolto, e chiede di nuovo l'indirizzo in cui si trovano Mujgan e Zeynep. Meto glielo fornisce, affinché possa portargli i soldi e rilasciare gli ostaggi. Tuttavia, Medi ha intenzione di andarci subito, e liberare Mujgan e Zeynep da solo. Nu lo prega di non compiere una mossa così azzardata, ma Medi è determinato. Medi affida a Nu la protezione futura di Mujgan e Gemie. Se dovesse succedergli qualcosa, sarà Nu ad occuparsi della sua famiglia, il suo migliore amico, l'unica persona al mondo di cui si sia mai fidato, e di cui si fidi tuttora. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.